Come mai non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi? Perché non riesco a trovare clienti? Perché non riesco a trovare il tempo per leggere, per fare sport, per stare con le persone a cui voglio bene? Perché non riesco a realizzare i miei sogni e i miei progetti? Probabilmente ho qualche problema con la strategia e oggi per aiutarci a prendere consapevolezza di che cos'è e come si sviluppa una strategia ci aiuterà, Camellia Ciobanu, maestra internazionale di scacchi, ci aiuterà a capire che cos'è la strategia, come ci aiuta il gioco degli scacchi ad avere successo nella vita, fateci tutte le domande che volete nei commenti. Questa chiacchierata è sponsorizzata da Corso SEO Operativo Basic perché per riuscire ad essere in prima pagina su Google occorre una strategia e quindi anche in questo caso ci aiuterà Camellia Ciobanu a capire come allestire una strategia perché la strategia in questo caso è la strategia SEO ma le regole delle strategie sono sempre le stesse. Vediamo un attimino di capire che cos'è appunto la strategia. Camellia ti lascio un po' la parola e poi da una cosa nasce l'altra vediamo come si sviluppa la chiacchierata. Sì Emanuele voglio salutare tutti i tuoi amici e tutto il tuo pubblico voglio dire che anche io sono una member mi sono iscritta sul tuo canale YouTube dove pubblichi dei video tanto interessanti so che anche tu sei un appassionato di scacchi anche del cubo rubic come anch'io ed ecco che vi ringrazio per l'invito oggi tu lo hai già finito anche io ce l'ho finito completato. Ok quindi stiamo parlando della strategia e sappiamo che una volta che vogliamo raggiungere il successo come in tutti gli sport dobbiamo seguire una determinata strategia e praticamente la strategia consiste in avere un principio che ci guidano verso la zone che è una cosa assai importante quindi negli scacchi dobbiamo giocare con un piano e proprio il salto di qualità si fa nel momento in cui si capisce questo ok? Molte volte siamo tentati a pensare soltanto a cosa facciamo nella prossima mossa va bene io parlo degli scacchi ma metaforicamente mi riferisco anche alla vita al business a tutto quello che cioè alle relazioni a tutto quello che si circonda ok e quindi dicevo che è molto importante pianificare quindi non solo a pensare in termini di poco tempo però avere una visione più lungimirante e avere un piano ben definito di quello che desideriamo ottenere e poi pensare ai passi che ci aiutano ad arrivare a quella direzione una cosa che si dice spesso in questi casi è partire dalla fine io devo costruire il mio obiettivo nella mia mente poi presto faremo anche una chiacchierata anche con mia sorella che ha creato una sua scuola che parla proprio di questo di creare qualcosa nella propria mente lei lo dice creare in quinta dimensione addirittura usa questi termini perché una volta che noi creiamo l'obiettivo poi dopo a ritroso partendo dal nostro obiettivo a ritroso proviamo a mettere quelle bricioline come pollicino che poi dobbiamo soltanto raccoglierle esatto attraverso la nostra patologia esatto è come costruire un puzzle abbiamo prima di tutto l'immagine e poi abbiamo i pezzettini che dobbiamo mettere ognuno nel suo po ognuno in un ordine preciso per aiutarci a costruire quell'immagine finale che avevamo nella mente così come anche i grandi artisti quindi prendiamo un blocco di pietra e un grande artista vede già la scultura dentro e toglie soltanto il superfluo ok magari io vedrei solo un blocco di pietra però un artista vede la scultura finale oppure quello che sembra un masso di carbone può benissimo diventare un bellissimo diamante brillantissimo e quindi anche questo impariamo dagli scacchi che anche se le cose non sembrano le migliori al momento con la giusta strategia e col giusto piano di gioco si arriva e si arriva alla vittoria e questo ci insegna gli scacchi è un atteggiamento ottimo per la vita per il lavoro sempre e comunque pensare che dobbiamo vincere una cosa una cosa molto particolare degli scacchi che mi ha mi ha affascinato quando ho sentito questa cosa che gli scacchi sembrano un gioco individuale e invece sono uno sport di squadra ti risulta perché siccome noi dobbiamo noi siamo il generale siamo il generale ma noi sfruttiamo una squadra per poter vincere quindi esattamente il gioco degli scacchi ti insegna probabilmente a gestire le tue risorse e se avessi a disposizione delle risorse umane come dei collaboratori come degli amici come qualcuno che ti può aiutare nel raggiungimento del tuo obiettivo ecco il gioco degli scacchi ti può aiutare a imparare a gestire queste risorse esattamente quindi ci sono delle qualità di leadership che si sviluppano mentre stiamo praticando gli scacchi perché bisogna capire che ogni pezzo sulla scacchiera ha le proprie caratteristiche e dobbiamo utilizzarle al meglio quindi prendere per esempio come creare una squadra di lavoro vedi in cui sono cioè il top in determinate cose e quindi aggiungendoli tutti insieme devi vedere quali sono le caratteristiche migliori di ogni impiegata e quindi fargli fare quello che possono fare al meglio allora avere una squadra di top certo e quindi hai qualche consiglio per poter per poter stendere una buona strategia quali sono qual è il appunto il prontuario che tu usi con i tuoi alunni perché tu sei insegnante anche di scacchi quindi avrai un tuo metodo di insegnamento come si sviluppa una tua lezione di scacchi per esempio quindi le mie lezioni sono abbastanza ampie nel senso che studiamo più cose più temi quindi partirei con degli eserciti di tattica perché è fondamentale vedere quali quali sono le situazioni immediate tipo di minacce riuscire a perché magari una partita può finire soltanto se non hai visto una una minaccia banale quindi dobbiamo allenare i nostri occhi a depistare tutte le situazioni immediate sulla scacchiera quindi la tattica è sempre molto importante e poi andiamo verso la strategia e quindi soprattutto dal medio gioco come fare un piano di gioco e poi quali sono le idee che ci aiutano a conseguirle come arrivare alla mossa migliore in ogni momento studiamo un po' di apertura e di finali poi analizziamo le partite è molto molto importante imparare dagli errori degli altri quindi vediamo le partite dagli altri anche i nostri propri errori quindi analizziamo le nostre proprie partite vediamo come migliorare nel futuro quindi mi stai dicendo che la strategia nasce a un certo punto io ho visto anche dei campioni di scacchi che giocano tutta la partita in pre-move dall'inizio alla fine pre-move significa che loro fanno le mosse si aspettano già le mosse dell'avversario quindi sembra che studino la strategia già dall'inizio quando è che si comincia a sviluppare la strategia all'inizio della partita a certi a certi livelli diciamo che c'è la fase teorica delle aperture che può arrivare fino alla ventesima mossa quindi loro sanno praticamente tutto quello che c'è da fare tutte le mosse a memoria fino alla ventesima mossa o di più non penso che sia bisogno a tutti i livelli raggiungere quelli obiettivi magari quello che è più importante è capire quali sono le caratteristiche di ogni apertura di ogni posizione ed è per quello che magari se uno non riesce a memorizzare tantissime mosse oppure se anche le memorizza ma non sa perché le fa non aiutano molto perché a qualsiasi mossa l'avversario può venire con una novità quindi può fare una mossa che fa parte del nostro repertorio quindi dobbiamo essere anche flessibili e cercare di accettare un cambio di strategia a un certo punto esattamente esattamente non bisogna essere rigidi però sempre molto molto flessibili perché le cose possono cambiare da una mossa all'altra e quindi dobbiamo saperci adattare e per quello sviluppare la capacità di pianificare e di pensare in modo strategico che tra l'altro significa soprattutto avere un pensiero ordinato e conoscere bene i principi che ci aiutano e allora seguire le regole perché molte volte alle persone non piace seguire le regole ma loro sono lì per aiutarci ad avere un buon rendimento e quindi negli scacchi dobbiamo capire che sulla scacchiera le cose non succedono a caso però siamo noi a crearle e a farle succedere e a questo ci aiuta proprio la strategia e ci aiutano a sviluppare anche questa responsabilità di sapere che questa mossa l'ho fatta io deve essere con un bel obiettivo se non mi porta a nessuna parte non posso dire che è successo per nulla ma l'ho pensato io quindi vedete che stiamo parlando di scacchi ma sembra sembra che stiamo parlando di di una situazione qualunque della vita reale che può essere una situazione lavorativa che può essere la ricerca di un di un miglior posto di lavoro può essere la gestione dei figli della della vita quotidiana no? perché arrivare a sera comunque sembra entrato ormai nelle nostre abitudini ma ci vuole una strategia anche per arrivare a sera ragazzi cioè prima devo portare i bambini a scuola poi dopo devo preparare da mangiare poi dopo devo andarle a ritirare devo andare a lavorare e ci sono i fattori esterni che sono a volte sono i nostri errori che commettiamo a volte però ci sono anche dei problemi di fattori esterni dove per esempio noi non abbiamo previsto tutte le mosse e arriva un fattore esterno la mossa dell'avversario che può essere una telefonata improvvisa un incidente stradale e niente in pratica quando c'è un imprevisto se noi abbiamo una buona strategia riusciamo anche ad affrontare meglio gli imprevisti quindi anche pensare a come la nostra strategia diventa buona quando ha anche delle vie d'uscita delle scappatoie delle varianti possibili alla strategia iniziale sì ogni volta prima di prendere una decisione bisogna considerare bene quali sono le nostre opzioni quindi avere più opzioni non affrettarci con magari quello che ci detta i sentimenti però bisogna ragionare bene considerare le cose metterle in bilancia e poi fare la nostra scelta e questo succede negli scatti mossa per mossa sì ci sono una combinazione di mosse incredibile c'è chi si diverte a fare anche le statistiche i numeri non stiamo qui a dire quante mosse ci sono un'infinita non sono una matematica però mi faccio dire che sono infinite quindi ecco ci vuoi raccontare Camelia un aneddoto qualche situazione in cui che ti ha colpito particolarmente nel tuo passato nella tua anche non so a livello di tornei che continuano ci saranno degli aneddoti simpatici dove per esempio un avversario si credeva fortissimo ed è stato stracciato in 4-4-8 o non lo so ragione adesso che me lo hai detto ti racconterò questo e poi ho avuto un altro pensiero quindi riguardo a quello che dicevi tu quando avevo forse dieci anni ho giocato un torneo open quindi aperto a tutti e nella prima partita dovevo giocare con un maestro internazionale quindi un giocatore famoso e forse considerata un po' però io ho lottato tantissimo in quella partita mossa per mossa con tutta la serietà e alla fine sono riuscita a vincere è stata una sorpresa per tutti alla fine lui mi ha dato la mano e mi ha detto bravissima tu diventerai una grandissima scacchista e quello mi ha aiutato molto ogni volta che ricevi degli input così positivi ti rimangono e ti aiutano è come un seme che pianti e poi produce un bellissimo raccolto e poi un'altra storie sarebbe quella dei campionati europei a squadre che parlavamo parlavamo di squadra prima e quindi ho giocato in Ungheria avevo 18 anni forse quasi 18 anni ho già compiuti e quindi non ho avuto un grandissimo torneo non ho fatto tanti punti però le mie colleghe di squadra hanno vinte di me e comunque sia siamo diventate le campionesse e questo per dire comunque è stato un miracolo perché prima dell'ultima partita avremmo potuto magari al massimo riuscire a prendere il bronzo la medaglia di bronzo invece quindi terzo posto con tutti gli altri risultati alla fine siamo riusciti a diventare le campionesse e quindi dicevo questo giusto per capire che anche se tu non sei nella massima forma se hai i componenti di squadra che possono sostenerti se sostenere la squadra comunque puoi arrivare a vincere loro magari in un torneo sei tu in grandissima forma magari non altro i tuoi colleghi di squadra e quindi il lavoro di squadra è molto molto importante anche come in una famiglia magari se una persona non è al massimo però se se c'è qualcun altro che ti può aiutare è proprio questo il concetto di riuscirsi a portare avanti l'un l'altro ad aiutarsi e a ottenere il successo insieme a proposito di famiglia mi fai pensare alla mia prima partita di scacchi che avevo tipo sei anni e mio babbo mio padre mio babbo mi ha detto vuoi imparare a giocare a scacchi ha preso fuori la scacchiera mi ha insegnato le mosse e da quel giorno non l'ho mai battuto mai fino a non mi ricordo se fossero 30 35 anni 32 33 anni una cosa così perché non mi ha mai regalato la partita mai secondo me è un bel insegnamento cioè fare in modo che anche quando insegni a un figlio a giocare abbiamo un ospite Alberto Lovato ciao Alberto un bel commento tutti quanti avete delle domande anche se siete indifferita non vi preoccupate questa chiacchierata andrà anche su youtube quindi se avete dei commenti poi dopo vi rispondiamo anche sotto nei commenti se avete delle domande e dicevo che nell'educazione di un figlio secondo me è giusto anche fargli sbatter la faccia contro una sconfitta no? invece che regalare una vittoria perché poverino bellino è bambino e deve avere la sua soddisfazione no? e vincere contro un campione di scatti non deve essere stata un regalo credo che tu l'abbia combattuta sul serio e sicuramente è una soddisfazione diversa vincere una partita combattuta rispetto a una regalata un'altra cosa molto molto importante che devo dire adesso è il fatto che non bisogna abbattersi non so se si dice così di fronte a una sconfitta però bisogna rimbocarsi le maniche e lavorare ancora più sodo perché quella sconfitta non è l'ultima cosa però noi perseguiamo sempre la vittoria come dicevo ok? e quindi magari un torneo non è andato bene ma il prossimo andrà molto meglio è molto importante sviluppare questo atteggiamento che riusciamo a sviluppare anche giocando a scacchino e non accontentarsi delle vittorie facili perché più sono difficili le battaglie e più ci rafforzano ok? quindi se dobbiamo diventare sempre più forti dobbiamo cercare degli avversari con cui possiamo fare delle partite molto combattute in modo da crescere quello che ci interessa è crescere sempre di più adattarsi sempre di più e raggiungere il livello massico di cui siamo capaci quindi praticamente eccellere questo è l'obiettivo finale eccellere e vincere vincere negli scacchi imparare a giocare a scacchi per imparare a vincere nella vita quindi questo è il mantra che io ho voluto scrivere perché effettivamente vediamo che imparare a giocare a scacchi ha dei risvolti positivi anche nella vita nel lavoro nelle relazioni in in tutti gli ambiti per cui vorrei dire a tutti come fare per contattarti se qualcuno volesse imparare a giocare a scacchi innanzitutto c'è un canale youtube in italiano bellissimo chiamato scacchi sui tacchi è un canale giovane è stato aperto da poco e ovviamente è un canale di Camelia Ceobano maestra internazionale di scacchi e questo è un nome molto molto evocativo scacchi sui tacchi bello perché di solito quando si pensa agli scacchi si pensa a un brutto vecchio con la barba noioso che gioca tipo babbo natale esatto invece anche le ragazze con i tacchi riescono a giocare a scacchi tante volte ci battono pure scacchi sui tacchi è il nome proprio del canale youtube cercatelo che lo trovate immediatamente a proposito di seo quindi è posizionato bene anche dal punto di vista delle parole chiave perché nessun altro canale si chiama così e quindi Camelia hai scelto un ottimo un ottimo titolo per il tuo canale grazie eventualmente lasciamo anche la tua email se qualcuno volesse proprio scriverti per chiederti una consulenza per fare una partita insieme per migliorare le proprie strategie questa è la mail di Camelia Ciobanu e non so se vuoi aggiungere qualcosa volevo solo dire che recentemente ho creato proprio un video corso di strategia che è composto da 10 video con la durata complessiva di circa 100 minuti in cui sto andando in grande dettaglio come si fa ad analizzare la mossa migliore proprio pensando dal piano grande alle piccole idee e poi alle mosse immediate e quindi se voglio non scrivermi su questo indirizzo email posso dare tutti i dettagli un'altra cosa è che inizierò ad organizzare delle simultanee online e vorrei insomma riuscire a giocare con più persone di quelli che vogliono affrontarmi sulla scacchiera e non vedo l'ora di creare nuovi video quindi sul mio canale youtube adesso con i campionati mondiali ho una collaborazione anche con The Coach Chess e magari vi farò vedere i video che verranno pubblicati la Alberto dice poco tempo fa avevo battuto un giocatore a scacchi ma era più debole gli ho dato alcune dritte per quel poco che so ma non so se avrei dovuto regalargliela non so va bene comunque giocare combattere il risultato deve essere quello giusto quindi se sei in vantaggio e devi vincere è sempre una battaglia non vuol dire che quello che succede sulla scacchiera ha alcun effetto su quello che succede fuori dalla scacchiera possiamo essere i migliori ma quando giociamo la partita c'è sempre la componente fair play quindi dobbiamo giocare e anche se sulla scacchiera sembriamo nemici in realtà siamo amici e questo bisogna sempre ricordarselo e magari so che c'è tanta competitività molte volte però fuori dalla scacchiera dobbiamo essere sempre amici tutti quanti certo assolutamente questa deve essere una regola generale ogni volta che faccio queste chiacchierate presento un libro non so perché bene quindi quest'oggi mi sento di presentare questo libro qua l'arte della guerra probabilmente lo conosci avevo intenzione di leggerlo un po' è un libro molto breve si legge pochissimo sono pochissime pagine scritte larghe sembra quasi un saggio quasi un libro di poesie perché scritto in versi e qui anche nel libro di questo è un generale cinese praticamente è un libro famosissimo è anche scritto in tante diverse edizioni questo è un libro che ci insegna tanto sulla strategia il libro l'arte della guerra ci soprattutto si sofferma su alcuni punti che sono molto in sintonia con il gioco degli scacchi che trattano il tema di conoscere se stessi e conoscere l'avversario conoscere il nemico lui lo chiama il nemico perché chiaramente lo doveva far fuori ma l'avversario o comunque il nemico sono diciamo sempre la stessa cosa e conoscere se stessi implica di fare un lavoro interiore importante quindi anche capire se questa battaglia dobbiamo per forza giocarla perché non è obbligatorio giocare tutte le battaglie esatto e e soprattutto conoscere il nemico mai sottovalutare l'ambiente mai sottovalutare il nemico stesso e quindi è un libro che può dare molti spunti di riflessione su un sì l'arte della guerra magari vi lascio anche il link poi nella descrizione del video e nella diretta di oggi bene io ho detto tutto cioè ci sarebbe da parlare tanto però poi dopo se si fa troppo lunga perdiamo ascoltatori magari se vogliamo approfondire ci ritroviamo una seconda volta certo ti ringrazio molto Camelia e saluto tutti e e buona giornata a tutti grazie a tutti buona giornata e vi auguro tutto il successo in tutti gli ambiti della vita grazie ciao ciao presto ciao ciao